un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone sono Cosimo Mascolo sono un compositore e arrangiatore di brani musicali la musica è una mia passione, un hobby, non è la mia professione oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar ho 70 anni, vivo in Italia, sulle Dolomiti dell'Onesi, che è precisamente il Cadore un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali la musica è una mia passione, un hobby, non è la mia professione oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar ho 70 anni, vivo in Italia, sulle Dolomiti... ho 70 anni, vivo in Italia, sulle Dolomiti...